Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale In questo video vi spiego i vari trucchi per fissare il make up Se avete un evento, semplicemente volete farlo durare di più Allora, inizio dicendo che ci sono vari metodi per far durare più il trucco Metodi low cost e un po' più expensive, costosi Come metodi low cost potete utilizzare della semplicissima acqua fredda E metterla in uno spruzzino, un nebulizzatore Alla fine del trucco del make up completo, l'andate a nebulizzare da lontano Uh, mi sono spruzzata, non pensavo ci fosse l'acqua nello spruzzino Vabbè, comunque l'andate a spruzzare sul viso Fate attenzione, deve essere acqua fredda In questo modo andrà ad uniformare tutti gli strati del trucco Che si andranno proprio a fondere l'un l'altro Il trucco risulterà più uniforme e grazie all'acqua gelida vi durerà di più Un altro è sempre con dell'acqua Però questa volta vi parlo dell'acqua termale di Aven Mi avete visto utilizzarla molto negli ultimi tutorial Perché è un'acqua termale appunto della sorgente Aven Che contiene comunque molti sali e vitamine E va ad idratare la pelle Quindi ha anche un effetto curativo E potete spruzzarla sia all'inizio trucco Per preparare la pelle al trucco O alla fine per fissarlo Nebulizzatela da lontano Come vi avevo detto con l'acqua gelida Oltre all'acqua termale di Aven potete spruzzare anche il Fix Plus della MAC Non è un fissante Non fatevi trarre in inganno dai commessi o dal nome Fix Plus perché io che ci ho lavorato vi posso assicurare Che non è uno spray fissante È solamente un'acqua profumata con delle vitamine Che va ad idratare la pelle E comunque a fine trucco potrà uniformare i vari strati del make up Ma non vi aiuta di certo a farlo tenere più a lungo Poi a parte questi metodi diciamo low cost Ci sono dei metodi un po' più costosi neanche tanto Che sono dei veri e propri cosmetici Che vanno a fissare il trucco Il primo è il Final Seal della Ben Nye Che è una marca americana di Los Angeles Io l'ho comprato quando vivevo a Londra Continuo a riordinarlo su internet Questo mi è costato 17 pound e 50 Quindi 20 euro 25 euro Una cosa del genere Però vi dura davvero una vita Pochissimi spruzzi Odora di menta E questo è davvero Anche il nome Final Seal Vuol dire appunto sigillo finale Vi va proprio a sigillare il trucco Io lo utilizzo sempre con le mie clienti Le spose Quando hanno un avvenimento importante Una cerimonia E vogliono far durare il trucco Tutto il giorno Ragazzi non ho mai avuto un commento negativo Mai avuto un lamento Dura davvero il trucco Tutta la giornata con questo E un altro ottimo Che al momento non riesco a trovare È quello della Make Up For Ever Mist & Fix Se non sbaglio Ed è anche quello ottimo È simile al Final Seal Contiene sempre alcol Che va a fissare il trucco Un altro metodo low cost Che però non vi consiglio di utilizzare sempre Io l'ho visto utilizzare spesso Quando ho lavorato a Londra Con le Drag Queen Se un giorno non avete nulla in casa E avete quest'urgenza Usate della lacca per capelli Della lacca normale Per fissare appunto le acconciature La Helnet è buonissima Come lacca in generale E da lontano mi raccomando Tutti questi prodotti Spruzzateli sempre ad occhi chiusi Su tutto il viso E il trucco vi durerà tutto il giorno Spero che questi consigli Vi siano stati utili Grazie per aver guardato il video Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Datemi un like Se il video vi è piaciuto E vi è stato utile E seguitemi anche sui altri social Vi lascio i link Tra due secondi Alla fine del video Grazie per aver guardato E ci vediamo al prossimo video Un bacio